Finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e la città. Frank Ribéry prova a suonare la carica sui social rispondendo a una sollecitazione di Tony ancora sensibile ai temi viola. Soprattutto adesso che la situazione è davvero delicata, è iniziato il ritiro a tempo indeterminato per vedere come uscire dal tunnel. Prandelli spera in una reazione già nel turno infrasettimanale con il Sassuolo vincere. Potrebbe comunque non bastare a far finire il periodo di clausura a Bagnoarripoli. I dirigenti restano furiosi come dal noto ufficiale del club dopo la partita di Bergamo in cui la Fiorentina ha raccimolato la sesta sconfitta su 11 gare. Troppe davvero per una squadra sempre quart'ultima con appena 4 punti di vantaggio sul Crotone che continua a chiudere la classifica. La Serie B insomma è spetto reale, ne prendono coscienza anche i tifosi che hanno esposto un altro striscione per cercare di richiamare i giocatori alle loro responsabilità. Nel mirino adesso ci sono loro perché far sedere Prandelli sul banco degli imputati è presto anche se la sua media punti 0-25 è molto più bassa rispetto a quella di Iachini. Ma guardarsi indietro ha poco senso, commisso non pare intenzionato né a richiamare il tecnico ascolano, tantomeno ovviamente avvirare su altri allenatori. Il messaggio che arriva dagli Stati Uniti è più o meno questo, chi ci ha fatto finire in questo marasma ora tiri fuori la Fiorentina. Dunque prima occasione il Sassuolo, poi sabato sempre a Franchi il Verona, la prossima settimana ultima prima della sosta sul campo della Juve che si sta ritrovando. Il calendario non aiuta gli acciacchi di Duncan e Biragli ancora da valutare nemmeno, ma di tempo per sbagliare ancora non ce n'è. Il primo a saperlo è proprio Ribéry pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo l'esclusione a sorpresa di Bergamo dove la Fiorentina non è di fatto scesa in campo.